Un saluto a tutti gli appassionati di tecnologia, in particolar modo agli amici del canale di Deciasti. Oggi siamo in compagnia di Xiaomi Mi 4i e questo è il suo unboxing. Iniziamo dalla confezione, una bella confezione, bella grande, con il marchio MI. Abbiamo l'adesivo di Brenovia.com, sito da cui proviene questo telefono. Andiamo ad aprire la confezione, cosa troviamo al suo interno. Ovviamente Xiaomi Mi 4i nella colorazione nera, guardate che bella questa back cover. Abbiamo il primo cartoncino da rimuovere, troviamo sotto il cavetto di connessione al computer USB e micro USB. Abbiamo un connettore da parete sicuramente non italiano, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Sicuramente non va bene per le nostre prese italiane, diciamo. Abbiamo un cartoncino che contiene la spilletta per estrarre il carrello delle due micro SIM e manualistica veramente essenziale. Non ci sono gli auricolari, ahimè, dobbiamo prenderli a parte. Questo è Xiaomi Mi 4i, abbiamo detto colorazione nera. Brevemente dimensioni di 138,1 x 69,6 x 7,8 mm di spessore, 130 grammi di peso, batteria non removibile, bella grande, 3.120 mAh. Snapdragon 615, octa-core 1.4 GHz con 2 GB di RAM. Display, 5 pollici di diagonale, risoluzione full HD, 1080 x 1920 con ben 441 ppi. Andiamo a vedere meglio questo bellissimo display. Veramente molto molto bello. Fotocamera da 13 megapixel e 5 anteriori. Bene, poi vedremo come gira il telefono nella recensione completa. Chiudo questo unboxing con il punteggio di AnTuTu. Guardate qua, Xiaomi Mi 4i, secondo AnTuTu, totalizza quasi 40.000 punti, per l'esattezza 39.572. Quindi un ottimo punteggio per quanto riguarda questo telefono. Vedremo nella recensione completa come si comporta nell'uso quotidiano. Per il momento direi che è tutto. E se avete domande fatele pure, altrimenti ci sentiamo per la recensione completa. Ciao ragazzi!